Il ritiro capita anche che per una volta non piova ma Pizarro tiri fuori l'ombrello per coprirsi dal sole e che Juan Guilherme Quadrado si dia all'antica arte della portineria mentre Pepito Rossi continua i suoi lavori sulla rapidità e che il resto del gruppo lavori all'interno della palestra Naturalmente c'è un po' di buon umore anche per le sensazioni e per il calore dei tifosi che continuano ad affollare gli spalti dell'impianto Benazzi di Moena tanta voglia dunque di divertirsi insieme alla squadra parlando di un calcio fatto soprattutto di tanto possesso palla, di occasioni, di azioni e si spera anche di gol guardate anche nel torello quanta tecnica riescono ad esprimere i viola con tanto di colpi di tacche e situazioni funamboliche Allenamento anche oggi doppio per la squadra come detto nella mattinata sotto lo sguardo di Andrea della Valle e nel pomeriggio soprattutto sotto quello attento di Mr. Montella e del suo staff domani amichevole contro il gazeante sport a partire dalle 17.30